Con consapevolezza interiore. Cerchio e seno attraverso NT 1 maggio 2004 a cura di VB Alexander. Il tempo procede inesorabilmente e tutto sulla Terra è transeunte. Ma ciò che ha importanza veramente è che voi sappiate vivere esperienze nella materia con consapevolezza interiore. Voglio dire che ognuno di voi deve capire che non è, nella maniera la più assoluta, inefficace l'esperienza nella materia. Ogni vostra nuova espressione di vita rappresenta una scintilla che si accende nell'universo infinito. Nulla va perduto. Dovete credere che ogni singola vostra esperienza, anche se è piccola dal punto di vista dell'esistenza intera, rappresenta un piccolo tassello, una piccola tessera, che andrà a comporre il meraviglioso mosaico dell'evoluzione individuale. Questa è la penultima riunione di questo ciclo. Ma ricordatevi che non è stato vano questo trascorrere di tempo, in quanto alcuni di voi hanno preso coscienza, specialmente i nuovi, di una realtà che è veramente unica e trascendente, la vostra realtà terrena. Badate bene, non esistono diverse realtà. La realtà è unica per tutti, ma quella che vivete nella materia è solo un aspetto della vostra realtà universale e unica.